Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. In questo video voglio introdurre una nuova serie di video e questa serie avrà come tema centrale il mondo dell'università e in particolare il mondo di informatica all'università. Che cosa voglio fare con questa serie? Con questa serie vorrei spiegare, entrando nei dettagli, anche dettagli tecnici, cosa significa studiare informatica all'università. Quindi voglio già premettere un paio di cose. Prima di tutto questi video saranno su informatica, quindi non ingegneria informatica. Informatica classica, possiamo dire. E seconda cosa ovviamente bisogna ricordare che l'esperienza che racconterò io l'ho accumulata dal mio percorso, che ho fatto un percorso di prima triennale in informatica e poi magistrale in informatica e recentemente mi sono laureato nella magistrale appunto. Quindi è basato sulla mia particolare esperienza. Però in generale penso che possa essere utile questa serie di video a tutte quelle persone che vogliono scegliere se magari andare all'università o andare al mondo del lavoro o comunque vogliono capire esattamente cos'è che si studia di informatica all'università. Allora, per quanto riguarda la struttura dei video, inizialmente vorrò fare questi overview che saranno video riassuntivi di interi anni, tipo questo primo, sarà l'overview del primo anno della triennale. Quindi ci saranno tante materie e questo significa che dovrò andare abbastanza veloce per ciascuna materia e non potrò entrare nei dettagli, proprio perché altrimenti il video sarebbe estremamente lungo. Comunque, dopo questo video ci potrebbero essere altri video di approfondimento per le materie specifiche con alcuni dettagli, eccetera, eccetera. E quindi più o meno questa è l'idea. Prima lo farò della triennale e poi eventualmente, se la serie, diciamo, può essere interessante, anche della magistrale. Detto questo, spero che il video sia interessante e divertente. Lasciatemi del feedback e buona visione. Quindi, procedendo. Questa è la tabella dei contenuti del video. Come possiamo vedere, avremo un'introduzione iniziale per spiegare in generale come è strutturata il corso universitario e poi entreremo nei dettagli rispetto alle principali materie affrontate tipicamente nel primo anno di informatica. Ovviamente, ripeto, è che queste sono le materie che, per esempio, ho studiato io nella mia università. In altre università i corsi potrebbero essere organizzati in altri modi, ma tipicamente, a seconda se uno lo fa al primo o al secondo anno o anche al terzo, comunque queste materie prima o poi vengono affrontate. Ora, quindi, partiamo con l'introduzione. Allora, avendo appena finito il ciclo di studi magistrali in informatica, la mia intenzione è quella di raccontare che cosa significa, in pratica, nell'essenza, studiare informatica all'università. La laurea in informatica segue la tipica divisione 3-2, che vuol dire che si inizia con la laurea triennale, che sono tre anni di studio, per l'ottenimento di un totale di 180 CFU, e poi andremo a parlare di che cosa sono questi CFU. Una volta che si è concluso la laurea triennale, che tipicamente c'è tutta una preparazione di una tesi triennale o comunque di un lavoro alla fine della laurea, e quindi poi c'è l'attribuzione dell'attestato di laurea triennale, una volta conclusa questa laurea triennale, si può procedere con la laurea magistrale, che vuole essere una specializzazione. Questa volta però sono due gli anni di studio e il totale di CFU da raggiungere sono 120. Qui abbiamo 3-2, uno split 3-2. Ora, che cosa sono questi CFU? I CFU sono i crediti formativi universitari, ed è il credito utilizzato per ottenere l'attestato di laurea. Quindi per ottenere l'attestato finale, che è l'attestato di laurea, devo ottenere una serie di CFU. E come vengono ottenuti questi CFU? Bene, ciascun corso, progetto o attività formativa può erogare una diversa quantità di CFU, e questo a seconda del lavoro richiesto allo studente, dal corso, dal progetto o dalle attività. Sia in termini di difficoltà che in termini di tempo, ma credo che sia più l'ultima in termini di tempo, cioè quanto tempo impiega. Infatti, un credito di CFU dovrebbe corrispondere a 25 ore di lavoro. Questa corrispondenza, ovviamente, non è sempre, sempre rispettata. Anzi, nell'università ci sono vari problemi, tra cui il fatto che alcuni corsi che danno pochi CFU fanno impiegare tanto tempo, e altri che danno più CFU ne fanno impiegare anche meno. Quindi, ovviamente, niente è perfetto. Però qual è l'idea? L'idea è, io seguo un corso. Un corso tipicamente dura almeno un semestre, dove un semestre sono sei mesi di tempo. Quindi l'università, diciamo, l'anno scolastico universitario è tipicamente diviso in due semestri, che si iniziano da settembre, che potrebbe essere settembre-ottobre, a seconda sempre dell'università. Il primo semestre dura fino a febbraio-marzo. Questo è il primo sem. Quindi io seguo un corso in questo semestre. Alla fine del semestre toglie esami. Ci sono le sessioni di esami. E poi ci sta il secondo, che più o meno inizia da marzo così, e finisce giugno-luglio. E ad agosto ci sta una pausa. E questo è il secondo semestre. Alla fine di ogni semestre ci sono delle sessioni di laurea. Quindi qui, che sarebbe qui e qui. E tipicamente ci sono le sessioni degli esami. E tipicamente potremmo avere due sessioni ad ogni fine semestre, oppure una. Anche qui dipende tutto più o meno dall'organizzazione. Quindi non voglio entrare troppo nei dettagli burocratici, perché questo dipende molto, molto, molto dall'università in particolare. Però l'idea è, io mi seguo il semestre, seguo i corsi, alla fine del semestre faccio l'esame, supero l'esame, ottengo i CFU. Non supero l'esame, devo aspettare la prossima sessione per poterlo ridare. Alcuni corsi poi hanno, sono lunghi due semestri. Quindi prima devo seguire entrambi i semestri, e poi do l'esame. Insomma, quindi più o meno questa è l'idea. Ora, a che cosa serve la laura triennale in informatica? L'obiettivo principale della laura triennale in informatica consiste nel fornire la conoscenza base e gli strumenti per poter iniziare a comprendere e sfruttare il potere del calcolo automatico. Cerchiamo di capire meglio questa descrizione che io ho voluto dare. Tipicamente le descrizioni sono diverse. Io ho scelto questa. Perché? Bene, prima di tutto, l'università deve fornire qualcosa. Perché comunque noi la paghiamo, deve fornire un servizio. E questo servizio è quello di fare imparare, di dare la conoscenza base, dove con conoscenza base intendo quell'insieme di concetti, quell'insieme di teorie, quell'insieme di modelli, anche matematici, e gli strumenti, quindi non solo cose teoriche, ma anche cose pratiche, strumenti che possono essere sia strumenti di modi di pensare, sia strumenti software, per esempio linguaggi, linguaggi di programmazione, programmi effettivi, e via dicendo, quindi sia conoscenza base che strumenti, per poter iniziare. E metto l'enfasi sull'iniziare. Perché? Perché la laurea trennale è un inizio. Anche se noi terminiamo la laurea trennale, non abbiamo fatto altro che iniziare a capire l'informatica. Iniziare a fare cosa? Bene, appunto, iniziare a comprendere, capire, quindi prima bisogna capire bene, e poi una volta che si è capito, si è in grado di sfruttare, di utilizzare, che cosa? Il calcolo automatico. E in particolare il potere che ci offre il calcolo automatico. Che intendo con calcolo automatico? Intendo l'automatizzazione, intendo l'abilità di poter descrivere algoritmi che risolvono in modo automatico i nostri problemi. Questo è ciò che ci dovrebbe dare un corso di laurea trennale in informatica, nient'altro. Ci dovrebbe permettere, ci dovrebbe dare i primi strumenti, ci dovrebbe far muovere i primi passi, per capire che cos'è questo calcolo automatico e per poterlo sfruttare nelle nostre vite, nelle vite di tutti i giorni, per risolvere i problemi concreti della nostra quotidianità, della società, delle persone a noi care, e via dicendo. Ora, a tale fine, quindi per ottenere questo obiettivo, vengono introdotti alcuni dei principali modelli matematici che permettono di ragionare in modo chiaro ed efficiente sui tipici problemi computazionali. Quindi gli strumenti che l'università dà, da quello che penso io, dalla mia esperienza, sono principalmente matematici. Una critica che io farei all'università è che c'è moltissima matematica e poca pratica, poca pratica intesa di poca pratica al computer. Detto questo, la matematica che viene imparata dall'università è molto molto importante, è molto critica, perché è molto potente se la sappiamo utilizzare e se la impariamo bene. Quindi proprio per capire questo calcolo automatico ci vengono forniti i principali modelli matematici e questi modelli matematici che cosa ci permettono di fare? Bene, ci permettono di ragionare in modo chiaro, con una chiarezza, con la chiarezza del linguaggio matematico ed efficiente, nel senso che in un modo molto molto veloce rispetto al problema, sui tipici appunto problemi computazionali. Quindi ovviamente i modelli che si studiano sono modelli computazionali, hanno a che fare con il calcolo automatico. In altre lauree, per esempio nella laurea in fisica o anche in matematica, eccetera, si studiano anche altri modelli matematici. In informatica si è concentrati sui modelli matematici di tipo computazionale. Nasce dunque il bisogno di sviluppare la padronanza di vari linguaggi della matematica. Ora, io avevo già fatto un video, avevo scritto un blog post e poi fatto un video su che cos'era la matematica e in quel video, in quel blog post, descrivevo che la matematica secondo me era un insieme di linguaggi in cui ciascun linguaggio modellava una parte specifica della realtà in un certo modo. Ebbene, i linguaggi principali a che servono ad un informatico per capire l'informatica, i linguaggi della matematica principali, sono questi qua. E sono analisi matematica, matematica discreta, algebra lineare, algebra astratta e probabilità e statistica. Ovviamente non sono tutti, questi sono solo quelli che tipicamente vengono insegnati all'università. Ce ne sono molti, molti, molti altri. Questo è soltanto un inizio in realtà e sono più o meno quelli che vengono affrontati, ripeto, in un corso di laurea trennale. Perché questi sono importanti? Sono importanti specialmente la matematica discreta, l'algebra lineare e l'algebra astratta, quindi specialmente questi tre, ma anche probabilità. Analisi un po' di meno, è importante gli strumenti che utilizza, ma non tanto effettivamente analisi in sé. Perché sono importanti? Perché i problemi computazionali, il modo in cui si analizzano, il modo in cui si scrive il codice, eccetera, utilizzano, diciamo, strumenti ripresi della matematica e quindi è importante conoscerli. E un corso di laurea dovrebbe insegnarli. Vengono ovviamente anche introdotti ed analizzati i linguaggi più propri dell'informatica, che sono i linguaggi di programmazione. Ora, di linguaggi di programmazione ovviamente si potrebbero aprire mille altri vasi di Pandora, però questi sono più o meno i principali. Troviamo C, un linguaggio classico, Python, Java, linguaggio di oggetti Java, SQL per i database, HTML, CSS e JavaScript per il mondo del web e poi ho messo anche Prolog, che forse è quello meno conosciuto di qua, di questa lista. Che cos'è Prolog? Prolog è un linguaggio dichiarativo che utilizza il paradigma di programmazione dichiarativo, che tipicamente non è conosciuto se non si fa all'università o comunque se non si approfondisce l'essenza dell'informatica in un certo senso. Perché l'ho voluto mettere? L'ho voluto mettere perché, diciamo, la laurea in informatica permette, non è che ci permette di diventare grandi programmatori in ciascuno di questi linguaggi. In realtà c'è poca programmazione, c'è poca pratica, ripeto, e questo potrebbe essere una critica. Però, quello che fa sicuramente è introduce lo studente ai diversi modi in cui si può scrivere una computazione, in cui si può scrivere un calcolo automatico. E tra questi diversi modi ci sono vari paradigmi e Prolog è uno di questi paradigmi, cioè il paradigma dichiarativo. Cioè, Prolog implementa il paradigma dichiarativo. Però, ripeto, l'università secondo me non deve essere fatta con l'idea che ok, diventerò bravo in uno di questi linguaggi. No, non è questo che serve. Serve per introdurre i linguaggi di programmazione per capire come possono essere pensati e analizzati, però poi per fare pratica lo dobbiamo fare per conto nostro con dei progetti personali. Infine, questi vari linguaggi di programmazione che abbiamo visto in alto dove vengono utilizzati? Bene, vengono utilizzati in vari contesti tecnologici. E tra questi contesti tecnologici che quali troviamo? Beh, troviamo sicuramente per esempio l'architettura dei laboratori. Questo è il contesto hardware, il contesto delle architetture e degli laboratori. E questo contesto contiene tutte le specifiche di come la CPU, la RAM, eccetera, sono messe assieme di come funzionano e via dicendo. Poi troviamo il contesto dei sistemi operativi che descrive la struttura software di un sistema operativo, i processi, lo scheduler, la memoria, come viene gestita. Poi troviamo le applicazioni che utilizzano il sistema operativo per accedere alle risorse dell'hardware. E possiamo parlare di applicazioni desktop, tipo applicazioni su Linux, macOS, Windows, oppure applicazioni web, ovvero applicazioni che utilizzano i protocolli di rete tipo l'HTTP. E quindi possiamo parlare di browsers, di web servers, di server FTP, di client FTP e via dicendo, tipo web browsers. Possiamo parlare di contesti di database che sono utilizzati per memorizzare le informazioni e possiamo anche parlare di contesti tecnologici che ultimamente stanno diventando molto molto popolari, tra cui troviamo dei modelli di machine learning, quindi il machine learning, le blockchain e via dicendo, ci serve tanto altro da dire. Questi sono pochissimi in realtà contesti tecnologici, però è per dare un overview. E quindi si introducono linguaggi della matematica, linguaggi di programmazione e contesti tecnologici e tecnologie. Cerchiamo quindi di capirci qualcosa iniziando dando una breve overview delle materie tipicamente trattate nel primo anno di una treennalina informatica. E questi sono andando in ordine analisi matematica, matematica discreta, algebra lineare, logica, programmazione e architettura degli elaboratori. Ora, nel mio corso di laurea io ho pure fatto fisica, però qui fisica non la voglio mettere perché non ha a che fare tanto con informatica. Con informatica sono queste le materie perché questo video lo volevo fare per chi è interessato a studiare informatica. l'esame di fisica si studia fisica ed è più o meno un'altra roba. Però questa è l'idea. Da notare poi che tra queste sei materie quattro sono completamente di matematica. La logica è un po' ciò che collega la matematica all'informatica ma di materie effettivamente informatiche in cui si fa tra virgolette programmazione e altre cose sono solo due programmazione e architettura degli elaboratori. Quindi possiamo iniziare con la prima analisi matematica ma prima ancora di iniziare vorrei fare un disclaimer vorrei fare una piccola nota che spero si capisca in questi in queste spiegando questi corsi in questo video lo farò molto velocemente e magari alcune cose non si capiranno perché perché non posso spiegare in dettagli tutto quello che voglio dare però è una overview un modello una struttura del corso e menzionerò tante parole che magari uno non sa che cosa significano quindi si potrebbe sentire un po' spaisato un po' alienato bene io voglio far capire che questo è normalissimo perché questo video non serve per far capire in dettaglio ciascuna materia serve per dare un'idea per cominciare a dare le prime parole le prime keywords la prima visione di quella materia e di cosa si andrà a studiare quindi se non capite niente non pensate che non fa per voi perché basta solo impegnarsi e si capisce tutto tutto quello che si vuole capire e quindi questa era un piccolo cosa possiamo iniziare con l'analisi matematica allora l'analisi matematica introduce lo studente allo studio dei numeri reali che vengono indicati con questo simbolo r reali e in particolare al calcolo infinitesimale ora qui ci sono due parole numeri reali e calcolo infinitesimale da segnarsi i tre macro argomenti tipicamente affrontati sono i limiti le derivate e gli integrali ora quando parliamo di limiti tipicamente abbiamo una funzione che noi definiamo con questo f di x quindi faccio che so f di x e scrivo 3x alla seconda più 5x più 2 questo è un polinomio di secondo grado ora quando io voglio studiare i limiti scrivo lim una keyword lim per x che tende a 5 di f di x e questo tipo di studio è uno studio sul comportamento della funzione quando l'argomento che sarebbe x assume determinati valori cioè che voglio dire quando x si avvicina a 5 quanto vale la mia funzione in questo caso che posso scrivere beh posso scrivere questo limite come lo ottengo lo ottengo sostituendo all'argomento 5 quindi lo ottengo facendo 3 per 5 alla seconda più 5 per 5 più 2 perché ho calcolato così facilmente questo limite perché questa funzione è un polinomio di secondo grado ed è un tipo di funzione continua che in analisi si dice continua e quindi per analizzare il limite posso semplicemente sostituire l'argomento questo non è vero per ogni funzione per alcune funzioni lo studio dei limiti può essere molto 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 difficile in questo caso però noi sostituiamo che cosa otteniamo otteniamo 3 per 25 più 25 più 2 quindi abbiamo 4 per 25 più 2 e questo quanto è uguale? questo uguale a allora 4 per 20 fa 80 4 per 25 fa 100 più 2 102 dovrebbe essere 102 e quindi abbiamo la nostra risposta sappiamo che quando x si avvicina a 5 la funzione si avvicina a 102 e quindi più o meno questa è l'idea del limite e quindi questo era per quanto riguarda i limiti ora per quanto riguarda le derivate ripeto non entrerò nei dettagli ma le derivate sono utilizzate per calcolare la crescita di una funzione rispetto ad un proprio argomento per esempio se ho f di x che è uguale a 5x più 2 questa nel grafico nel grafico x y sarà fondamentalmente una retta tipo una roba del genere sarà in cui questo è 2 e questo è il mio f di x ora questa retta ha una crescita costante che vuol dire vuol dire che il suo valore aumenta sì ma aumenta sempre di un fattore costante e se noi andiamo a scrivere la derivata la derivata si scrive in vari modi possiamo scrivere tipo df fratto di x per dire la derivata di f rispetto alla variable x in questo caso è 5 e infatti è un valore costante perché? perché f di x è una crescita costante si potrebbe anche scrivere f primo di x uguale 5 oppure in un'altra notazione f trattino di x è uguale a 5 insomma ci sono tante varie notazioni l'importante è capire che la derivata misura la crescita è utilizzata per misurare la crescita e quindi questo per quanto riguarda le derivate ripeto le derivate sono un argomento molto molto complesso ma a noi non interessa entrare nei dettagli era giusto per dare un overview infine gli integrali gli integrali sono fondamentalmente sono delle tecniche che ci permettono di calcolare l'area sottesa da una corva tipo noi qui abbiamo una corva abbiamo a e abbiamo b qui noi facciamo abbiamo quindi una sottosezione di questa corva e questa è una corva f di x l'integrale che va da a a b di f di x e si scrive in questo modo di x è uguale all'area sotto la curva questa roba quindi saper calcolare gli integrali significa saper calcolare curve saper calcolare aree sottese da curve generiche e quindi questi sono gli integrali gli integrali derivati ai limiti sono tutti connessi tra loro ovviamente e più o meno questa è l'idea tipiche domande a cui il corso tento di rispondere sono cosa differenzia i numeri reali dai numeri razionali perché radice di 2 è un numero reale cioè che cosa sono i numeri reali i numeri reali sono tutti quei numeri tipo 1 meno 1 2 0 ma anche 3 mezzi meno 3 mezzi 10 quinti insomma ci sono un sacco di numeri reali ma tutti questi sono anche numeri razionali in generale i numeri razionali sono quei numeri che possono essere espressi come rapporto tra due numeri quindi come a fratto b dove a e b sono numeri interi in z dove z è l'insieme dei numeri interi bene i numeri reali però hanno dei numeri in più e sono questi qua i razionali quelli i irrazionali i numeri irrazionali tipo radice di 2 cioè che vuol dire che radice di 2 non è un numero razionale perché radice di 2 non può essere scritto come rapporto tra due numeri interi non posso scrivere radice di 2 come a fratto b non lo posso fare diciamo quindi che radice di 2 è irrazionale e praticamente l'insieme dei reali è ottenuto dall'insieme dei razionali e degli irrazionali come possiamo gestire poi un'altra domanda che si fa è per esempio come possiamo gestire sequenze infinite di numeri diciamo che l'analisi matematica come detto prima studia il calcolo infinitesimale e in questo nome c'è la parola infinito si nasconde la parola infinito per esempio un problema studiato dall'analisi è come gestire sequenze infinite di numeri che si intende? bene supponiamo di avere la seguente serie abbiamo una somma di vari elementi di una sequenza e la sequenza ha come elemento generico 1 fratto 2 alla i che vuol dire 1 fratto 2 alla i? vuol dire che io ho questo 1 fratto 2 alla i però dove i varia da 0 a più infinito quindi avrò 1 fratto 2 alla 0 1 fratto 2 alla 1 1 fratto 2 alla 2 ora io ho questi vari elementi questa è una sequenza no? ma se io li voglio sommare tutti quanti assieme ottengo una serie io voglio fare 1 fratto 2 alla 0 più 1 fratto 2 alla 1 più 1 fratto 2 alla 2 tipo in questo caso quanto otterrei? otterrei 1 fratto 2 alla 0 fa 1 1 fratto 2 alla 1 fa 1 fratto 2 alla 1 così e poi 1 fratto 4 quindi qui otterrei 4 4 qui sarebbe 4 più 2 più 1 quindi sarebbe 4 più 2 è 6 7 quarti 7 quarti ora se però lo voglio fare con una quantità infinita di elementi perché non mi voglio fermare a primi 3 ma voglio ottenerli tutti quanti ha senso fare questa cosa? bene l'analisi matematica studia proprio cose del genere tipo come potremmo approcciare questa serie? ora io farò vedere qualche tecnica ma ripeto non la spiegherò è giusto per far vedere come si potrebbe ragionare allora supponiamo di definire S come la nostra serie infinita quindi 1 più 1 mezzo più 1 quarto più via dicendo ora se io faccio 1 mezzo per S ora notiamo che S non è un oggetto che abbiamo definito bene perché S è una serie infinita quindi in realtà cominciare a fare manipolazioni algebriche su S è un qualcosa di molto pericoloso e io farò vedere qualche calcolo ma non lo prendete assolutamente alla lettera è solamente una cosa concettuale un'intuizione non è per niente preciso quello che sto per fare però supponiamo di fare un mezzo per S allora io avrei un mezzo per tutta questa serie infinita 1 più 1 mezzo più 1 quarto più eccetera eccetera e supponiamo di essere in grado di distribuire questo mezzo a tutti gli elementi di questa sequenza che sono ripeto infiniti quindi non sappiamo se lo possiamo fare bene che cosa otterremo? otterremo 1 mezzo per 1 fa 1 mezzo 1 mezzo per 1 mezzo fa 1 quarto 1 mezzo per 1 quarto fa 1 ottavo e via dicendo ora notiamo che praticamente otteniamo di nuovo la sequenza che stava qui sopra però non c'è più l'1 perché abbiamo un mezzo un quarto un ottavo che sarebbe l'elemento che stava qui subito dopo e via dicendo quindi è come se rottinessimo la stessa sequenza ma non c'è uno quindi che vuol dire? vuol dire che un mezzo per S sarebbe uguale a che cosa? beh è uguale a la sequenza originale S a cui però ho rimosso 1 meno 1 in un certo senso perché è un mezzo un quarto un ottavo e via dicendo quindi ho questa cosa ora da questa equazione posso ottenermi fuori S perché? perché che faccio? beh posso spostare S da questa parte quindi avrei un mezzo S meno S uguale meno 1 poi faccio S qui diciamo raccolgo S ho un mezzo meno 1 uguale meno 1 quindi qua ho meno un mezzo S uguale meno 1 moltiplico meno 1 da entrambi lati ho un mezzo S uguale ad 1 moltiplico per 2 da entrambi lati ho S uguale a 2 quindi alla fine ottengo che S è uguale a 2 e quindi sarei portato a pensare che questa serie infinita in realtà è uguale a un valore finito 2 ora questo ha senso ha senso assegnare un valore finito ad una serie infinita? ebbene queste domande sono studiate dall'analisi matematica e proprio qui ho rifatto il ragionamento e quindi sembra proprio che essere S è uguale a 2 ora i calcoli appena fatti non sono assolutamente formali e valgono solamente in particolari condizioni perché in questo caso diciamo che la serie converge perché è una serie infinita che però converge arriva raggiunge un valore finito che in questo caso è 2 però non sempre questo funziona analisi matematica lo studio dell'analisi matematica ci permette di avere gli strumenti per capire quando queste serie convergono che cosa significa convergere che cosa significa trattare l'infinito e via dicendo quindi è molto molto importante è un esame tipicamente molto difficile per il studente inizialmente infatti scommetto che molti di questi calcoli non sono stati compresi del tutto ed è assolutamente normale non c'è nessun problema anzi è assolutamente proprio aspettata una cosa del genere più o meno però questa è l'idea di analisi matematica e possiamo procedere con la prossima che è matematica discreta quindi continuando possiamo parlare di matematica discreta allora la matematica discreta si pone l'obiettivo di analizzare tutte quelle strutture matematiche collegate in qualche modo all'insieme dei numeri naturali ora avevamo detto che l'analisi matematica era collegata all'insieme dei numeri reali che contengono tutti i numeri razionali quindi tipo 2 fratto 3 meno 5 settimi ma anche tipo radice di 2 radice di 5 pi greco il numero e che è un numero e via dicendo bene la matematica discreta ha questa keyword discreta e questa keyword riporta all'insieme dei numeri naturali che sono 0 1 2 3 4 5 6 quindi sono gli interi positivi più lo 0 e l'idea è questa appunto ora sono tantissimi gli argomenti affrontati in matematica discreta quindi si parla di funzioni relazioni equivalenze si trattano le principali strutture algebriche si trattano i numeri naturali e l'induzione come funziona l'induzione che cos'è l'induzione si tratta dell'aritmetica modulare della scrittura posizionale calcolo combinatorio teoria dei numeri algebra di bull teoria dei grafi insomma sono veramente tantissimi e potrei spendere un intero corso in realtà su una cosa del genere su matematica discreta ed è quello che si fa ora però in particolare tra i vari linguaggi della matematica la matematica discreta è forse il linguaggio più importante per un informatico mentre l'analisi matematica è importante più che altro per cominciare a capire come funzionano questi diversi linguaggi della matematica perché sì sono diversi ma sono comunque collegati tra loro e quindi è un ottimo esercizio per entrare nel mindset della matematica in termini proprio di utilità tecnica la matematica discreta è forse molto molto più importante di tutti gli altri perché perché il mondo dei calcolatori infatti nel mondo dei calcolatori digitali tutto è discretizzato cioè tutto può essere ricondotto ad una sequenza diciamo finita di elementi e quindi tutto può essere contato con dei numeri naturali con 0 1 2 3 4 eccetera 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 ora in particolare consideriamo il concetto del grafo ora definiamo un grafo come una coppia di insiemi che cos'è un grafo in matematica discreta un grafo in matematica discreta non è altro che un modo per rappresentare delle relazioni tra oggetti discreti quindi abbiamo un insieme di elementi che noi chiamiamo nodi e sono questi pallini li possiamo rappresentare come dei pallini e poi un insieme di relazioni tra questi pallini cioè di collegamenti quindi io faccio delle freccette tra dei pallini tipo in questo modo tipo questa roba è un grafo ora matematicamente io questo grafo come lo rappresento lo rappresento come una coppia quindi G che è il mio grafo lo indico come una coppia V E dove V è l'insieme di nodi quindi che so questo lo potrei chiamare V1 questo lo potrei chiamare V2 questo lo potrei chiamare V3 e questo lo potrei chiamare V4 così facendo V che cos'è è l'insieme composto da V1 V2 V3 e V4 mentre E è l'insieme di questi archi di queste connessioni tra i nodi e ciascuna connessione tra i nodi come è rappresentata è rappresentata da una coppia la coppia di nodi che sono connessi tramite l'arco tipo V1 V2 quindi questo è un insieme di coppie tipo la coppia V1 V2 perché la coppia V1 V2 è connessa poi abbiamo connessi che altre coppie abbiamo connesso la coppia V1 V3 la coppia V1 V3 è connessa poi che cosa abbiamo abbiamo la coppia V2 V3 infine abbiamo la coppia V3 V4 notiamo ad esempio che in questi archi in questi insieme di archi non è presente la coppia V1 V4 perché la coppia V1 V4 non è collegata non c'è un arco che mi porta da V1 a V4 certo io posso arrivare da V1 a V4 passando per V3 quindi posso passare per V3 e arrivare a V4 questo è un grafo che più o meno si definisce in questo modo quindi abbiamo il grafo in questo caso abbiamo per esempio V3 e come rappresenterei questi archi bene io ho tre nodi quindi ho V1 V2 e V3 e tipo in questo caso io ho la coppia V1 V2 quindi V1 V2 ho un arco V2 V3 ho un arco e poi V1 V3 un arco quindi viene fuori un triangolo V1 V2 V2 ora perché ho voluto introdurre la struttura matematica dei grafi allora i grafi assumono un'importanza fondamentale per l'informatica e in particolare voglio portare un esempio che dimostra che fa vedere un esempio veloce un esempio storico che fa vedere come i grafi possono essere utili per risolvere vari problemi allora voglio portare in particolare il problema dei ponti di Conisberg allora Conisberg è una città della Prussia e in particolare c'era dato che questa città era formata da vari ponti come possiamo vedere in questa immagine quindi questi sono tutti i ponti e questo è un fiume è un fiume che è connesso da vari ponti quindi abbiamo fondamentalmente una sezione A che è un isolotto all'interno poi abbiamo le sezioni B, C e D che sono connesse ripeto da vari ponti allora il problema che all'epoca si stava cercando di era una domanda era una domanda molto molto popolare in cui la città era questa è possibile trovare un cammino che percorre tutti i ponti una e una sola volta quindi vuol dire che ciascun ponte è percorso una sola volta è attraversato una sola volta in modo tale che si attraversano tutti i ponti quindi tutti i ponti sono attraversati e si finisce esattamente dove si è iniziato il percorso il cammino per esempio io posso iniziare da C allora qui posso scegliere di prendere questo C poi magari qui posso dire ok prendo questo A poi prendo questo B poi prendo poi sono costretto a prendere questo E perché se prendo questo D poi devo prendere G e quindi non posso più tornare indietro quindi sono costretto a prendere questo E però adesso se prendo questo G poi non riesco più a farlo altrimenti potrei in un certo senso non fare nulla un altro modo che possiamo provare è ok io parto da qui faccio C poi faccio E poi faccio F poi faccio B qui nuovamente se faccio A poi devo riutilizzare un ponte quindi non posso più fare A e quindi diciamo sembra essere molto molto difficile trovare un cambiamento del genere bene Euler nel 1736 ha detto che non è possibile ha dimostrato formalmente in modo matematico che non è possibile avere un percorso che uno utilizza tutti i ponti una e una sola volta e che due ritorna nel punto in cui parte in cui inizia ora come ha fatto a rispondere a questa domanda ha modellato il problema tramite un grafo ed è qui che è il ruolo importantissimo dei grafi come strumento di modellazione che cosa significa modellare matematicamente modellare matematicamente significa astrarre significa togliere il superfluo significa mettere in un modello mettere nel modello solamente le cose necessarie gli aspetti caratterizzanti del problema per poi poterlo risolvere e quali sono gli aspetti caratterizzanti del problema dei ponti di conisberg e proprio questo fatto è avere questi nodi che rappresentano le sezioni di terra che sono connessi da vari archi per esempio questo C è connesso alla sezione di terra quindi se questo è C questo è A questo è B e questo è D che cosa possiamo dire? beh, possono dire che C è connesso ad A tramite due archi poi possiamo dire che A è connesso a B tramite due archi poi possiamo dire che A è connesso a D tramite un arco che D è connesso a B tramite un arco e che d è connesso a c tramite un arco quindi abbiamo questo tipo di struttura e abbiamo fondamentalmente un grafo una volta che Euler ha astratto tutto il resto dei dettagli non mi interessa il resto non mi interessa come è fatta questo isolotto mi interessa soltanto che è un nodo è un pallino mi interessano le connessioni tra gli isolotti cioè i ponti mi interessa solamente modellare questo una volta che ho tenuto questo tipo di modellazione tramite la teoria dei grafi ed è qui il primo diciamo momento nella storia in cui si è introdotto esplicitamente questo tipo di struttura matematica ha diciamo dimostrato che non è possibile ora come ha fatto Euler a dire che non è possibile avere questo tipo di soluzione che non è possibile risolvere questo problema e ripetiamo che cos'è una soluzione una soluzione sarebbe un cammino che percorre che inizia da un nodo percorre tutti gli archi una una sola volta e poi finisce nello stesso nodo e in questo caso lui ha detto no con questo grafo con il grafo che modella i ponti di Konigsberg non è possibile avere questo tipo di cammino perché perché fondamentalmente per avere questo tipo di cammino necessitiamo che ciascun nodo ciascuna pallina abbia un degree abbia un grado si dice in inglese si dice degree e in italiano si dice grado un grado pari ora che cos'è il grado il grado di un nodo è il numero di collegamenti che collegano quel nodo ad altri nodi tipo in questo caso se io prendo questo nodo qui lui qua che grado ha 1 2 3 4 e 5 quindi questo nodo ha grado 5 quest'altro nodo questo in basso ha degree 3 quest'altro nodo ha degree 3 quest'altro nodo in alto ha degree 3 quindi sono tutti dispari bene Euler ha dimostrato fondamentalmente ha utilizzato il fatto che per avere un cammino come lo si voleva tutti i nodi devono avere un degree pari e devono essere devono far parte tutti della stessa diciamo componente se vogliamo e più o meno questa è l'idea ora ripeto non voglio entrare nei dettagli ma è giusto per far capire che queste cose possono essere sfruttate per modellare problemi del mondo reale per modellare il mondo reale e infatti questo è il ruolo dei grafi e con i grafi uno modella un sacco di cose in informatica però quindi abbiamo terminato la parte di matematica discreta ripeto in realtà di matematica discreta si potrebbero dire un sacco di cose come del resto di analisi matematica questo è per dare una piccola overview quindi la cosa importante da capire è che mentre l'analisi matematica ha a che fare con i numeri reali con r con i numeri irrazionali tipo radice di 2 pi greco eccetera matematica discreta ha a che fare con l'insieme dei numeri naturali con n 0 1 2 3 4 e le cose più importanti da capire secondo me hanno a che fare con proprio la struttura dei numeri naturali e l'induzione l'induzione è connessa alla ricorsione e poi ovviamente farò dei video per cercare di capire questa connessione poi anche ovviamente la scrittura posizionale è molto importante la teoria dei numeri insomma tutte queste cose sono molto importanti le algebre di bull che ci connetteranno poi alla logica ai circuiti e alle architetture che poi vedremo anche in questo video insomma ci sono tantissime cose della matematica discreta che è fondamentale per un informatico detto questo abbiamo finito di trattare questo overview di matematica discreta possiamo procedere alla prossima materia che è algebra lineare quindi continuando troviamo l'algebra lineare ora i principali oggetti di studio dell'algebra lineare sono gli spazi vettoriali le applicazioni lineari e le matrici ora gli spazi vettoriali sono particolari strutture algebriche quindi strutture matematiche che non entrerò nei dettagli in questo video le applicazioni lineari sono particolari funzioni che hanno una serie di proprietà e poi ci sono le matrici ora le matrici sono queste disposizioni di numeri in due dimensioni quindi abbiamo delle righe e delle colonne quindi abbiamo questa griglia di numeri bene questa griglia di numeri detta matrice ed è fondamentale nel contesto dell'algebra lineare e quindi l'algebra lineare studia come queste cose sono collegate tra loro cioè come gli spazi vettoriali sono collegati alle applicazioni lineari e alle matrici e a tutta una serie di altri oggetti ora una delle prime operazioni che vengono studiate tra le matrici è il prodotto tra matrici perché le matrici esattamente come i numeri sono degli elementi di spazi matematici in questo caso le matrici possono essere elementi di se vogliamo una delle prime operazioni che viene studiata sulle matrici è il prodotto tra matrici che vuol dire questa cosa vuol dire che esattamente come noi sappiamo calcolare il prodotto tra numeri tipo se io faccio 5 per 3 ottengo 15 quindi ho due numeri in input ho l'operazione che in questo caso è il prodotto e ho l'output dell'operazione tipo 2 per 3 fa 6 bene esattamente nello stesso modo è possibile definire il prodotto ma questa volta non più tra numeri cioè a sinistra e a destra non ho più dei numeri ma ho delle matrici quindi ho la matrice a sinistra e la matrice a destra le moltiplico e ottengo la matrice risultato il risultato del prodotto ovviamente il prodotto il fatto che il prodotto lo faccio tra matrici e non tra numeri ha una serie di conseguenze e quindi questo tra virgolette è lo scopo dell'algebra lineare studiare queste differenze cosa cambia quando faccio il prodotto tra matrici che proprietà ha il prodotto tra matrici ora tra l'altro in particolare come otteniamo il prodotto delle matrici? bene fondamentalmente l'idea è che in questa posizione c'è il risultato di prendere questa particolare sequenza di numeri prendere questa particolare sequenza di numeri che sarebbe la prima riga della prima matrice e la prima colonna della seconda matrice e fare questa operazione prendo elemento per elemento e moltiplico gli elementi corrispondenti e poi sommo tra loro cioè che vuol dire farei 0x0 più 1x3 più 3x8 ora 0x0 fa 0 quindi questo fa 0 questo fa 3 8x16 24 8x3 fa 24 3 più 24 fa 27 e quindi questo è il valore che metto in questa posizione dopodiché il valore che metto in quest'altra posizione invece ho ottenuto come? prendendo sempre la prima riga della prima matrice ma questa volta non prendo più la prima colonna ma prendo la seconda colonna infatti il prodotto tra matrici è anche detto prodotto righe per colonne prendo la seconda colonna e faccio la stessa cosa faccio 0x2 quindi sto unendo gli elementi nelle stesse posizioni più 1x2 più 3x0 in questo caso fondamentalmente quanto ci viene? anzi no ho sbagliato è 0x2 più 1x1 ecco infatti non è proprio semplice cioè tocca fare attenzione quindi è 0x2 più 1x1 più 3x0 che fa 1 e quindi qua ci metto 1 come ottengo questo? prendendo la prima riga e l'ultima colonna la terza colonna in questo caso faccio 0x1 che fa 0 1x5 che fa 5 più 3x0 che fa 0 e quindi mi viene fuori 5 come per esempio calcolo questo valore in basso? allora dato che lui fa parte della terza riga lo prenderò facendo il prodotto tra la terza riga della prima matrice e la seconda colonna della seconda matrice infatti avrei 7x3 7x2 7x2 più 3x1 più 4x0 questo è 14 più 3 14 più 3 15, 16, 17 che fa proprio 17 ora ripeto questo era giusto per introdurre uno non è che deve capire esattamente come fare questo calcolo ma in algebra lineare si fanno questi e molti altri calcoli ora l'algebra lineare è utilizzata in moltissimi campi dell'informatica e della matematica tra cui in particolare il campo del machine learning in particolare i modelli a rete neurali sono costituiti da prodotti matriciali quindi io faccio tanti prodotti matriciali ho questi layer di prodotti matriciali e quindi fondamentalmente imparare significa capire quali sono i parametri di queste matrici quindi per questo l'algebra lineare è importantissima e il prodotto tra matrici è molto molto importante dopodiché continuiamo con logica e reti logiche allora la logica è forse lo strumento di calcolo più vecchio di sempre infatti lo studio della logica è riconducibile ai greci ad aristotele e via dicendo lo studio della logica dunque è fondamentale in quanto che cosa permette di fare la logica? bene la logica permette di codificare tramite un linguaggio formale alcune delle più importanti regole di ragionamento e qui possiamo notare il nesso che collega la logica tra la matematica e l'informatica cioè da una parte abbiamo la matematica poi la matematica è diciamo caratterizzata dalla presenza di un linguaggio di un particolare linguaggio che è formale è dichiarativo dichiara l'esistenza di questi oggetti matematici quindi questo si collega alla logica perché la logica ci permette di utilizzare un linguaggio per esprimere ma per esprimere cosa? per esprimere delle regole di ragionamento per esprimere delle regole quindi per esprimere un calcolo ed è questo che collega l'informatica perché ovviamente l'informatica ha a che fare con il calcolare alla logica e viceversa la matematica quindi per questo è molto molto importante ora non solo il linguaggio formale della logica può poi essere costruito nel mondo reale in che senso io posso costruire la logica? bene io posso codificare lo stesso linguaggio all'interno di circuiti digitali e questi circuiti digitali che vengono anche chiamati per esempio logic gates gates logici logic gates questi circuiti digitali io poi li posso effettivamente creare li posso creare l'elettricità può girare in questi circuiti e mi possono dare determinati output a seconda dell'input che li do in particolare che posso fare con l'elettricità posso implementare la logica nel mondo reale e in particolare nei computer allora sono due i principali linguaggi analizzati in un corso introduttivo di logica che sono la logica proposizionale e la logica del primo ordine in questo video io ho fatto solamente un esempio di logica del primo ordine quindi non ho trattato la logica proposizionale in generale però gli argomenti trattati in un corso di logica sono le tautologie che cos'è una tautologia che cos'è una contraddizione che cosa sono gli assiomi logici le regole di inferenza e come questi due aspetti fanno parte del concetto di sistema formale cioè come un sistema formale è formato da assiomi logici e regole di inferenza e via dicendo e poi il ruolo dei quantificatori ci sarebbe un sacco di altre cose da dire questi sono veramente veramente pochi e qui ho fatto un piccolo esempio di un classico silogismo ora il silogismo funziona in questo modo abbiamo queste due frasi e poi una conseguenza logica che deriva dall'unione di queste due frasi per esempio se io dico che Socrate è un uomo e poi dico che tutti gli uomini sono mortali allora posso inferire posso arrivare a dire anche che Socrate è mortale perché posso dire che Socrate è mortale? bene il ragionamento è seguente Socrate è un uomo tutti gli uomini sono mortali ma dato che Socrate è un uomo anche lui è mortale e quindi Socrate è mortale cioè nel senso io semplicemente qui è come se lo dicessi tutti quanti gli uomini quindi essere uomo significa essere mortale la proprietà di essere uomo porta automaticamente la proprietà di essere mortale dato che Socrate questo individuo questa entità questo identificatore che chiamiamo Socrate è un uomo ha la proprietà di essere uomo ha anche la proprietà di essere mortale e quindi scrivo Socrate è mortale come posso codificare questo silogismo all'interno del linguaggio e della logica? per esempio in questo modo potrei dire questo è chiamato predicato perché sta predicando sta diciamo affermando predicato una verità e che cosa sta affermando in particolare? sta affermando che l'entità che io identifico con il simbolo con la sequenza di simboli Socrate che potrebbe essere per esempio una persona nel mondo reale o potrebbe essere un oggetto potrebbe essere qualsiasi cosa è un identificativo è un'entità è un'etichetta che io associo una sequenza di carattere è un simbolo bene sto dicendo che questo il diciamo l'entità associata a questo diciamo identificativo a questa etichetta soddisfa il predicato uomo ovvero è un uomo rende vero questo predicato rende vera questa affermazione e quindi questa è una cosa la seconda cosa invece è una un'espressione quantificata questo è un quantificatore è un quantificatore per ogni quindi è un quantificatore esistenziale della serie per ogni x quindi a prescindere dal valore di x io so che se l'x è tale che rende vero questo predicato uomo di x allora la stessa x rende vero anche quest'altro predicato mortale di x e questo è proprio quello che mi codifica la regola tutti gli uomini sono mortali tutti gli uomini ovvero se ho un x e so che x è un uomo allora so anche che x è mortale e questa freccetta indica proprio questa inferenza questa conclusione logica questo passo che riesco a fare e questa è come se fosse una trasmissione di proprietà cioè la proprietà uomo trasmette anche la proprietà mortale in questo caso ora queste due frasi messe assieme che cosa significano significano che uomo Socrate è vero ma allora mortale Socrate è vero mortale Socrate è vero cioè Socrate è mortale come tutti gli uomini ora questa particolare logica questo modo di codificare il silogismo classico di Socrate è mortale è chiamata logica del primo ordine e c'è una parola primo ordine ora perché perché in questo tipo di logica noi possiamo utilizzare questi predicati che affermano verità sul mondo che stiamo analizzando che stiamo modellando che possono avere degli argomenti quindi posso avere un p di x posso anche avere un p di x y anche un p di x y z l'unica condizione l'unico modo in cui vincoliamo queste cose è che queste variabili x x y x y e z possono rappresentare solamente delle entità nel nostro modello di rappresentazione per esempio per ogni x x deve essere inteso come per esempio che ne so dobbiamo avere un insieme di riferimento cioè dato che qui abbiamo un per ogni vuol dire per ogni elemento del nostro insieme del nostro della nostra categoria di riferimento che potrebbe essere o l'insieme delle persone o l'insieme delle cose dell'universo quindi un insieme estremamente vasto quindi abbiamo un insieme di riferimento che so che è formato da tanti elementi e x rappresenta uno di questi elementi e nella logica del primo ordine x può rappresentare solamente una particolare entità dell'insieme che stiamo modellando poi ci sono logiche del secondo ordine in cui le variabili non solo rappresentano entità ma rappresentano altri predicati quindi una cosa un po' più complessa e via dicendo e questa è la logica del primo ordine ora la logica invece proposizionale che è ancora un po' più semplice che non ho ancora introdotto che non ho fatto vedere in questa specie di piccola presentazione è diversa perché in questa logica i predicati non hanno argomenti quindi ripeto nella logica del primo ordine il predicato può avere uno o più argomenti ma questi argomenti queste variabili possono fare riferimento solamente a delle entità nella logica proposizionale invece non possiamo avere una situazione del genere abbiamo semplicemente predicati senza argomenti che vuol dire un predicato senza un argomento un predicato senza un argomento potrebbe essere la frase oggi piove oppure un altro potrebbe essere oggi cioè oggi è sereno è sereno quindi abbiamo queste frasi che ovviamente possono essere vere o false a cui possiamo assinare un valore di verità ma non possono contenere per esempio delle variabili e quindi poi posso io posso connettere queste frasi tra loro tramite dei connettivi logici ad esempio se io voglio dire che oggi o piove oppure è sereno potrei scrivere P OR Q e questo simbolo questa freccetta verso il basso è OR l'OR logico ed è un modo per connettere affermazioni per connettere proposizioni diverse tra loro e questa proposizione mi sta cosa sta indicando sta indicando la proposizione composta che mi dice oggi o piove oppure è sereno ora queste proposizioni della logica in particolare della logica proposizionale quindi questa parte possono essere tradotte in circuiti logici infatti i corsi tipicamente di logica sono chiamati logica e reti logiche ma noi lo vedremmo anche in architettura dei calcolatori nella parte finale del video che qui ho soltanto voluto trattare la logica ripeto questo è un po' un overview un po' approssimata ma giusto per dare l'idea quindi continuando troviamo programmazione dei calcolatori allora l'obiettivo del primo corso di programmazione invece è quello di introdurre lo studente ai linguaggi di programmazione e a come utilizzare questi ultimi per strutturare delle computazioni quindi abbiamo i linguaggi di programmazione e il loro compito cioè quello di scrivere un modo per calcolare ovvero un modo per strutturare una computazione ora tipicamente si sceglie un linguaggio tra C, Python e Java tipicamente sono quelli più utilizzati e a partire dal linguaggio scelto si introduce in modo progressivo la sintassi del linguaggio e la relativa semantica dove con sintassi intendo essenzialmente quali sono le parole offerte dal linguaggio tipo per fare un costrutto condizionale per dire se una condizione è vera fai questo altrimenti fai quello nel linguaggio C si utilizza la keyword if tra parentesi la condizione apro graffa metto il body dell'if chiudo graffa metto l'else apro graffa metto il body dell'else e chiudo graffa quindi ho questo tipo di sintassi quindi la sintassi è proprio le parole come vengono scritte e il modo corretto per scriverle ad esempio se qui non metto un punto e virgola sto facendo un errore di sintassi perché sto scrivendo male il mio programma invece poi c'è anche la semantica e la semantica invece ha a che fare col significato cioè ha a che fare ma se io scrivo if condizione graffa risultato ok la sintassi è corretta ma cosa significa e che vuol dire cosa significa vuol dire il computer quando esegue quell'espressione che cosa fa cosa computa e in questo caso il significato di un if è se la condizione è vera esegui il body dell'if se la condizione è falsa esegui il body dell'else quindi la semantica è un'attribuzione di significato alla sintassi e in particolare specifica che cosa andrà a fare il computer quando va ad eseguire quel pezzo di codice e poi tipo il significato della printf è stampa nello standard output del programma questo tipo di stringa che è costruita in un certo modo e via dicendo ora risolvendo vari problemi quindi in questi corsi nei corsi di programmazione quindi si introduce la sintassi del linguaggio scelto che ripeto può essere c python java e via dicendo quindi si introduce questa sintassi e poi si risolvono tanti problemi per capire come funziona il linguaggio e per capire le varie parti sia in termini di sintassi sia in termini di semantica del linguaggio scelto risolvendo vari problemi si comincia ad acquisire familiarità con il linguaggio di programmazione studiato come piccolo esempio di che cosa si fa in questo corso ho portato il problema del calcolo dei numeri di fibonacci ora i numeri di fibonacci sono definiti da questa sequenza abbiamo che f di 1 è uguale ad f di 2 che è uguale ad 1 per i primi due e poi in generale abbiamo quest'altra formula f di n è uguale ad f di n meno 1 più f di n meno 2 ora che significa? significa questo ci scriviamo qui la formula f di n è uguale a f di n meno 2 più f di n meno 1 e poi f di 1 è uguale ad f di 2 ed uguale a 1 quindi dobbiamo scrivere per n maggiore o uguale a 3 per essere proprio formalmente precisi ora che significa? come leggo questa cosa? beh dico ok f di 1 è uguale ad 1 f di 2 è uguale ad 1 f di 3 è uguale a f di n meno 2 quindi qua devo fare 3 meno 2 fa 1 più f di 2 ok ma sono in grado di calcolare f1 e f2? beh si sono entrambi 1 quindi è 1 più 1 che fa 2 f di 4 invece quant'è? beh f di 4 è f di 2 più f di 3 ma f di 2 era 1 f di 3 l'ho appena calcolato e quindi questo è 3 e quindi come possiamo vedere andando avanti sono in grado di calcolarmi tutti i numeri della sequenza in particolare la posso scrivere in questo modo 1 1 perché sono i primi 2 poi devo sommarli ottengo 2 poi devo sommare 1 e 2 ottengo 3 poi sommo 2 e 3 ottengo 5 sommo 3 e 5 ottengo 8 sommo 5 e 8 e ottengo sarebbe 13 sommo 8 e 13 ottengo 21 e via dicendo quindi cose del genere quindi questa è l'idea ovviamente questa sequenza cresce e il nostro problema è se io ti do n in generale tu mi sai calcolare quanto vale f di n? per esempio se io ti dovessi dire n che 1 beh n di 1 f di 1 f di 1 uguale 1 ma se n è 5 quanto è f di 5? beh f di 5 è 1, 2, 3, 4 e 5 f di 5 è proprio 5 e quanto è invece f di 7? beh f di 7 è 5, 6, 7 è 13 e come si risolve questo problema in modo automatico? beh si risolve per esempio scrivendo questo codice ora non voglio entrare nei dettagli sul codice ma uno potrebbe semplicemente farsi un file .c fv.c e cominciamo a scrivere includiamo le librerie standard includiamo e scriviamo il nostro main che deve ritornare 0 e scriviamo la funzione fib che ritorna in output un intero e prende in output un altro intero questo n e qui possiamo scrivere il nostro programma e diciamo ok se n è meno uguale di 2 tu semplicemente mi ritorni 1 perché questi sono i primi valori altrimenti io definisco delle variabili tipo a, b e t dove a la definisco a 1 b la definisco ad 1 e t la definisco a meno 1 ora la variabile a la variabile a e b mi conteranno dei numeri di fibonacci mentre la variabile t la utilizzerò come memoria temporanea inizialmente quindi in a ci sarà f di 2 in b ci sarà f di 3 e nel loop io faccio un loop per calcolarmi f di n che lo dovrò ritornare il loop utilizzerò la variabile indicatrice i che parte da 2 e arriva ad n e si incrementa di 1 di volta in volta e fondamentalmente all'interno del loop che faccio? devo fare l'update ora devo spostare in allora qui era f di 1 e f di 2 quindi qua in realtà era a f di 1 b f di 2 adesso in b ci voglio mettere f di 3 ok ma f di 3 io lo calcolo come? beh faccio f di 1 più f di 2 ora f di 1 è a f di 2 è b quindi b faccio uguale a più b quindi ho fatto l'update a b e invece adesso a voglio che ci sia f di 2 e quindi che faccio? faccio uguale qui c'è un problema però perché f di 2 prima era salvato in b ma adesso io b l'ho aggiornato ed è qui entra in gioco la variabile temporanea t perché prima di aggiornare b io mi salvo il vecchio valore di b in t e poi assegno ad a t che sarebbe il vecchio valore di b a questo punto è giusto che ha f di 2 e questa è la prima iterazione alla seconda iterazione io che avrò? avrò che qui ci sarà f di 2 più f di 3 ma f di 2 più f di 3 che cos'è? beh questo è f di 4 invece a sarà t che era f di 3 e quindi questo è f di 3 quindi alla seconda iterazione avrò f di 4 ed f di 3 e via dicendo alla fine che cosa avrò? avrò fondamentalmente che a conterrà f di n mentre b conterrà f di n più 1 e uno può fare dei test per assicurarsi che questo sia vero e possiamo provarlo possiamo stamparci per esempio il valore di fibo di 5 vediamo un po' se è corretto fibo di 5 quindi adesso vado a compilare forse non è fibo ma è fiba 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 di 5 adesso vado a compilare faccio fibo e mi viene 5 che è corretto faccio fibo di 7 dovrebbe venire che era 13 mi viene 13 e quindi uno può provare tipo che so potrei fare fibo di 100 fibo di 100 e notiamo che fibo di 100 è super grande talmente grande che diventa un numero negativo e perché diventa un numero negativo questo ha a che fare con l'integer overflow di cui ho già fatto un video dettagliato al riguardo infatti se faccio tipo fibo di 13 non mi va più negativo fibo di 13 è 233 perfetto quindi questa è l'idea e quindi questa è più o meno programmazione e possiamo concludere l'ultimo con architettura degli elaboratori quindi come ultima materia ho deciso di mettere architettura degli elaboratori o dei calcolatori o dei computer insomma le architetture hardware moderne quindi l'obiettivo del corso di architettura è quello di studiare i concetti principali che si trovano alla base delle moderne architetture dei calcolatori in parole povere si studia il modo in cui i computer sono strutturati al loro interno l'idea principale dietro alle moderne architetture è quella di costruire una serie di livelli di astrazione in cui ciascun livello è costruito a partire dai servizi offerti dai livelli precedenti e offre a sua volta servizi ai livelli successivi che vuol dire? vuol dire che abbiamo vari livelli all'interno dei computer moderni in particolare troviamo i seguenti livelli il livello applicazione il livello sistema operativo il livello ISA il livello delle porte logiche il livello dei circuiti il livello fisico ciascuno di questi livelli il livello fisico è proprio il livello dell'elettricità quindi della fisica della meccanica quantistica cose che ovviamente sono al di fuori della mia portata per adesso ma anche il livello dei circuiti in un certo senso è fuori dalla mia portata perché ha a che fare sempre con l'elettronica anche il livello delle porte logiche che si avvicina di più all'arbre delle macchine le porte logiche sono connesse alla logica perché per esempio quella proposizione che avevamo visto prima quella P or Q può essere implementata in una porta logica in una porta logica del tipo gli metto due input P e Q e produco l'output P or Q che vuol dire vuol dire che questa porta logica emette un segnale elettrico di output se uno dei due suoi input è attivo quindi se riceve per esempio un input da P allora emette un output se riceve un input da Q allora emette un output se riceve un input da entrambi allora emette un output mentre se non riceve nessun tipo di input né da P né da Q allora non emette un output e questi sono modi per definire queste porte logiche quindi fondamentalmente abbiamo vari livelli e la caratteristica è che ripeto ciascun livello il livello applicazione è strutturato partendo dai servizi offerti dal livello del sistema operativo e in particolare dalle system call dalle chiamate di sistema ma il livello sistema operativo è diciamo creato e scritto utilizzando il livello ISA che definisce l'assembly le istruzioni macchina che quel particolare architettura può eseguire infatti ISA sta per instruction set architecture ma l'ISA è costruito a partire dalle porte logiche e dalla strutturazione dell'hardware all'interno della macchina che a sua volta è fatto da circuiti che fanno girare la rete elettrica tra virgolette l'elettricità quindi questo ovviamente è molto molto approssimato sia chiaro per esempio le porte logiche sono descritte in questo modo con questi diagrammi e sono utilizzate per implementare operazioni quali la somma la sottrazione la divisione e via dicendo alla fine il processore è in grado di fare queste operazioni elementari ma queste operazioni elementari sono combinate tra loro per dar vita ai moderni processori che sono estremamente estremamente complessi tipo in questo caso abbiamo una somma tra due valori A e B e in output qui abbiamo la loro somma cioè abbiamo il valore A più B ovviamente non entrerò all'interno di questo di come questi diciamo logic gates porte logiche in italiano funzionano però l'idea è che il corso di architettura e anche il corso di reti logiche studiano queste cose cioè mentre logica e reti logiche ha sia una parte di logica che una parte di reti di reti logiche appunto il corso di architettura è principalmente di porte logiche quindi sempre nuovamente c'è un po' di ridondanze in questo senso ma poi anche a livello di assembly quindi come è strutturato l'assembly che cosa offre l'assembly al sistema operativo e via dicendo quindi proprio cercando di fare un overview finale rispetto a tutti gli argomenti trattati abbiamo visto fondamentalmente queste materie ovviamente non ho potuto minimamente entrare nel dettaglio e già così il video forse sarà venuto lungo non lo so spero che sia stato un minimo utile una materia che ripeto non ho trattato è fisica ma perché fisica c'entra poco con l'informatica e niente al prossimo video questa serie si muoverà in due direzioni diverse da una parte tratterò anche gli altri anni dell'informatica trennale e poi eventualmente posso trattare in dettaglio specifiche materie quindi farò un video magari solo sull'analisi matematica un video solo sulla matematica discreta un video solo sulla programmazione e via dicendo per tutte le materie offerte dall'università e ripeto l'intenzione con questi video è dare un'idea molto molto chiara di cosa significa studiare informatica all'università quindi spero che il video sia stato interessante e al prossimo video e al prossimo video e al prossimo video